Compie 30 anni la mostra dei presepi realizzati dal maestro Giuseppe Diorio ed ospitata dal liceo classico Giambattista Vico di Chieti, una consuetudine che si ripete e che vede in esposizione 24 vere e proprie opere d'arte realizzate con diversi materiali, dalla pasta alla cartapesta, dal legno alle canne di bambù. Tre temi scelti dal maestro Diorio per i suoi presepi ci sono la colomba, il bambino, la caffettiera, Greccio, ispirato al famosissimo presepe di San Francesco d'Assisi, il mare, l'unico salvatore, il calice della vita, la mensa, il presepe della zona Sant'Anna Chieti, la stella cometa, la bete, la maiella, il trabocco, i cuori intrecciati con canne e con la piccola capanna illuminata che rappresenta la natività. L'arte del presepe è una tradizione che risale a quando era ragazzino. Com'è nata però questa passione? Ma io penso che sia un dono che porto dentro sin dalla nascita perché già all'età di 4-5 anni, come mi ricordava anche mia madre, essendo una famiglia numerosa l'unico spazio disponibile per poter realizzare un presepe era sotto il tavolo della cucina. Naturalmente la mamma raccomandava alla famiglia di non muovere le gambe per non rompere il presepe che io avevo realizzato. Quali materiali predilige? Io adopero tutti i materiali, per me tutti i materiali hanno una dignità, anche quelli più poveri e quindi il detto che spesso si ripete che i materiali debbano essere di una certa nobiltà per fare un'opera d'arte non è da prendere in considerazione perché anche i materiali più umili se vengono elaborati e lavorati con estro e creatività danno delle opere d'arte. Lei è un artista, cosa vuole augurare per il 2019 a tutti gli artisti in ascolto? Un augurio sincero a tutti gli artisti dell'Italia e del mondo perché contribuiscono con le opere al valore della pace che è un bene universale.